Bella a tutti, io sono Andrea, in arte Stan, sono ancora giovane, sono 16 anni e sto cercando di emergere nel mondo rap. Ho già composto diversi pezzi, tra cui ti saluto, ho iniziato, e questo pezzo in progettazione che si chiama Non mi fermerò, il tuo canale si chiama Stan Unpitchat. Allora, questo pezzo l'ho scritto pensando, dato che mi trovo in una città molto piccola e ci sono tanti sbocchi per arrivare in alto e quindi ho pensato di fare un pezzo dove poter sbocciare nel mondo rap, quindi di dare opportunità a tutti ad ascoltarlo. Quando ho iniziato a fare rap, diciamo che non ero tanto bravo, neanche ora, però non andavo nemmeno a tempo, ora me la cavo meglio. Faccio pezzi dedicati a tutti, ogni genere, d'amore, rap, normale, underground, rap, drigg. Io ascolto molto Nero Label, tra cui Mostro, Sergio e vari, Sfera e Basta e molti altri del mondo rap, non solo. Ascoltavo anche De André, poi Articolo 31, che molti conosceranno, e mi piace ascoltare ogni genere musicale, soprattutto quelle inglese. Allora, per ora i pezzi sono soltanto singoli, ma con questo video che uscirà breve, sarà l'introduzione alle P, che si chiamerà C'è di peggio. Ti ringraziamo per la tua presenza, grazie Stan e a presto. A presto.